La pantomima si è conclusa, lo dice Vittorio Delfo Sigleri, presidente azione universitaria. L'azione scenica, che ha visto interpreti i vertici del nostro Ateneo, è volta al termine. Finale tragicomico, come da copione aumento scontato della prestazione economica richiesta agli iscritti della Mediterranea. Comico in quanto è risultato risibile agli occhi dei più l'atteggiamento di coloro i quali, in posizione di vertici nel sistema di governo dell'Ateneo, si sono cinti nelle scorse settimane di vesti sessantottine per contestare l'operato del governo centrale. Poi, comodi e ingessati nelle loro poltrone, hanno deliberato l'ennesimo aumento delle tasse di iscrizione e immatricolazione. A braccetto di collettivi, alcuni docenti del nostro Ateneo prevedevano apoliticamente l'esistenza in corso di un'azione, da parte del governo, volta alla sovversione dell'ordine precostituito e alla messa in atto di un vero colpo di Stato. Gli stessi, nudi dei loro abiti di scena, non sembrano strapparsi i capelli per l'ingiustizia perpetuata nei confronti della comunità studentesca regina. E qui siamo al tragico. Solo chi è studente e vive ogni giorno le stanze delle nostre facoltà può capire come l'aumento delle tasse universitarie, oltre il 100% negli ultimi sette anni, possa recare serio pregiudizio all'accesso agli studi per molti ragazzi che vivono nella nostra provincia. Le famiglie dei miei colleghi sacrificano livelli essenziali di benessere per mantenere gli studi dei figli, perché il futuro della loro progenie non ha costo che non sia sopportabile. E non ci si racconti, prosegue nella sua nota Vittorio Delfo Siglari, che la colpa è solo di Roma. Non siamo così stupidi da non biasimare la politica dei tagli. Non siamo così stupidi da non sognare ed esigere uno Stato dove i fondi per la formazione e l'innovazione aumentino di anno in anno. Ma, consentitemolo, conclude Vittorio Delfo Siglari, non siamo neanche così stupidi da non capire che bisogna eliminare gli sprechi del nostro Ateneo, quegli sprechi necessari per mantenere il sistema di clientele rendite di posizione che si rivela da tempo immemorabile sistema vincente, non in termini di didattica e ricerca.